Mi è stato richiesto di creare un video dove spiego l'utilizzo del file htaccess buttando un occhio di riguardo al metodo rewrite, poiché non si trova nulla di soddisfacente in rete. Quindi, perché no? Innanzitutto, cosa è il file htaccess e a cosa serve? htaccess è la forma contratta di Hypertext Access, è il file di configurazione di Apache. Apache è un web server software, ovvero un software che si occupa di gestire le richieste di trasferimento di pagine web, ma non solo di pagine web, tramite protocollo HTTP o HTTPS. Quindi è proprio su questa tipologia di software che girano, tra virgolette, tutti i siti web. Ma tornando al file htaccess, a cosa serve quindi? Serve a modificare e configurare il comportamento del nostro web server. In questo video, per mostrarvi gli esempi, sto utilizzando un server Apache installato in locale. Nella root directory, che come dice il nome è la cartella principale del nostro web server, ho semplicemente creato un file php che stampa in output la stringa Benvenuti sul mio bellissimo sito internet. Inoltre, ho creato una cartella chiamata prova e al suo interno ho creato un altro file index.php che avverte il visitatore del nostro sito internet che si trova all'interno della cartella prova. Immaginiamo di dover modificare o, come in questo caso, eliminare completamente la risorsa dal nostro server. Cosa succede? Succede che se il visitatore cerca di accedere alla risorsa, ottiene errore 404, oggetto non trovato, poiché non è stato possibile recuperare il file index.php dall'indirizzo localhost prova index.php poiché quest'ultimo è stato eliminato definitivamente dal server. Ma questo, alla fine, è il male minore. Facendo questa mossa, abbiamo creato potenzialmente dei deadlink, ovvero link morti che non indirizzano più ad alcuna risorsa e che magari abbiamo sparso in giro a destra e a sinistra precedentemente. Bel problema, eh? Ed ecco qua che entra in scena il file htaccess con il metodo rewrite. Allora, innanzitutto creiamo il file .htaccess all'interno della nostra root directory. E per la cronaca, gli effetti del file .htaccess si applicano a tutte le sottodirectory. Quindi, creando il file .htaccess nella root directory, andiamo ad influenzare tutte le directory che si trovano sul nostro sito. Se, per esempio, si creasse il file all'interno della cartella prova, gli effetti sarebbero circoscritti all'interno di prova e a tutte le sue eventuali sottodirectory. Ma prima di sporcarci le mani, vediamo come funziona il rewrite engine sotto il cofano. Apache è un web server estremamente flessibile e deve la sua flessibilità al suo design modulare. Infatti, è possibile aggiungere o togliere funzionalità al nostro web server tramite l'utilizzo di moduli. Questi sono tutti i moduli attualmente installati sul mio server locale e sono tutti di default poiché non ho toccato assolutamente nulla. Il modulo che ci interessa è il mod rewrite.so, ovvero il modulo che implementa l'engine di revwriting. Ma cos'è questo revwriting engine? Scopriamolo insieme. Il revwriting engine di Apache è un pezzo di software che riesce a riscrivere al volo, quindi al momento della richiesta, gli URL. Per fare ciò, utilizza a sua volta un parser, cioè un software il cui obiettivo è quello di analizzare un flusso di dati, in questo caso un URL, e di riconoscere determinate forme e strutture. Esistono diverse categorie di parser e volete sapere a quale categoria appartiene il parser utilizzato dal revwriting engine di Apache? appartiene alla categoria dei PCR che è l'acronimo di Perl Compatible Regular Expressions. Vi lascio il link in descrizione se volete approfondire l'argomento. Ora che sappiamo cosa è questo revwriting engine, siamo pronti finalmente a scrivere qualche regolina. La prima cosa che dobbiamo fare è attivare il revwrite engine inserendo la direttiva revwrite engine on. La direttiva revwrite rule serve a stabilire una regola di reindirizzamento. Nell'esempio abbiamo stabilito che qualora si tentasse di accedere ad un qualsiasi elemento sotto la directory prova, da notare l'utilizzo dell'asterisco come wildcard, si venga reindirizzati nella directory nuova che ho appena creato. Dentro nuova c'è un file index.php che ci comunica la nostra posizione. Ora se ricarichiamo la pagina guardate un po' cosa succede. Si viene reindirizzati nella directory nuova, poiché abbiamo tentato di accedere ad index.php contenuto sotto la directory prova. Altro esempio. In questo caso si stabilisce che si effettui un redirect solamente se si tenta di accedere ad un file .php sotto la directory prova. Quindi se si tenta di visualizzare la pagina HTML che ho creato sotto prova, possiamo visualizzarla senza problemi. Mentre se tentiamo di accedere al file index.php si viene reindirizzati sul file index della cartella nuova, poiché si tenta di visualizzare un file .php. È inoltre possibile utilizzare le variabili d'ambiente come http user agent. Nell'esempio, tramite la direttiva rewrite.cond si stabilisce quando effettuare un redirect. Un po' come se fosse un blocco if. Quindi se l'user agent contiene la sequenza Android, si viene reindirizzati su index.mobile.php nella root. Ovviamente vi sono molte altre variabili d'ambiente. Vi lascio il link in descrizione così via via ve le andate a spulciare. Utilizzando il flag or si può stabilire un'ulteriore direttiva rewrite.cond che verrà valutata se la precedente non viene rispettata. Nell'esempio si estende la rewrite rule creata in precedenza. Ovvero, se la variabile d'ambiente http user agent contiene la sequenza Android o se la variabile d'ambiente http user agent contiene la sequenza iPhone, reindirizza il client da index.php ad index.mobile.php. È possibile utilizzare anche i gruppi di cattura. Nell'esempio si crea il gruppo di cattura 1 che conterrà il nome di qualsiasi file contenuto sotto la cartella prova e si riutilizza il gruppo tramite la forma dollaro più reference, in questo caso 1, per comporre il path dove andremo a rediriggere il client, ovvero sotto nuova più nome file. Infatti, se tentiamo di accedere ad un qualsiasi file sotto prova, si viene reindirizzati all'omonimo file contenuto nella directory nuova. Non è raro imbattersi nella direttiva rewrite base. Tramite rewrite base possiamo stabilire la directory da utilizzare nel redirect, in modo tale da non doverla specificare direttamente nella rewrite rule. Nell'esempio si stabilisce come rewrite base la directory nuova e come potete vedere nella rewrite rule ho specificato solamente il nome del file di destinazione omettendo il percorso, poiché già stabilito nella rewrite base. Infatti, se tentiamo di accedere a prova index.php si viene reindirizzati su index.php contenuto all'interno della cartella nuova. Direi che posso ritenermi soddisfatto. Ovviamente vi ho mostrato un utilizzo molto basilare della direttiva rewrite, ma penso che abbiate intuito che se si padroneggiano discretamente le espressioni regolari può rivelarsi uno strumento assai potente. Per chi volesse approfondire, lascio la guida ufficiale in descrizione. Prima di lasciarci però, è bene sapere che in genere affidarsi al file htaccess per configurare il server Apache è considerata una bad practice, in quanto, in questo modo, si va ad impattare negativamente sulle prestazioni. Se è possibile, è consigliato a portare le modifiche direttamente all'interno del file di configurazione del web server. Bene, e con ciò è davvero tutto. Per qualsiasi domanda, vi invito, come al solito, a lasciare un commento. A risentirci!